L'emergenza Covid ci schiaccia quotidianamente sul presente, tra emergenze sociali ed emergenze sanitarie, ma noi dobbiamo mettere la testa anche nel futuro, perché dobbiamo programmare per prendere tante risorse europee del recovery plan il prossimo anno. Anzi, fatemi dire al Premier Conte che la vera task force della quale ha bisogno è quella con i sindaci, che sono coloro maggiormente in grado di spendere bene e più velocemente. Noi faremo sabato il nostro Pesaro Future Day. Programmeremo il territorio con esponenti di governo nazionale, esponenti del governo regionale e tre ospiti speciali come Ferruccio De Bortoli, Giorgio Gori e Veronica Gentili che presenteranno i loro libri. Tutti i cittadini che vorranno partecipare lo potranno fare nei cinque gruppi di lavoro, abbracciare, respirare, accelerare, sorprendere e connettere e soprattutto connettere lavoreremo con tutti i sindaci della provincia. È ora di costruire il futuro per costruire un anno 2021 di rinascita del paese e della nostra città.